ragazzi oggi ci troviamo a galliano park e scopriremo insieme come in moto si muove il culo. Siamo a galliano e oggi imparerete come non si va in moto, follow me! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti! Ora affronteremo un paio di onboard visti da dietro dove andremo ad affrontare la posizione in sella e l'inserimento di curva dove secondo me sono fondamentali l'essere seduto bene sulla moto e l'affrontare alla giusta linea poi tante cose sono molto personali però è importante avere tempo da dedicare allo star seduti bene in sella senza pensare al tempo bisognerebbe proprio prenderci dei turni solo per imparare diciamo a prendere gli automatismi corretti poi vedrete che la velocità, la rapidità, l'irruenza in frenata saranno tutte conseguenze dallo star seduti corretti in moto. Il più grande limite degli amatori sia iniziare la frenata in posizione ancora di rettilineo, quindi centrali sulla sella, poi durante la frenata iniziare a spostarsi in posizione curva, ma questo non è corretto perché devi comunque allentare la presa sul freno per avere tempo di muoverti sulla moto, devi comunque pensare anche a scalare le marce, devi pensare a trovare la linea e quindi è importante riuscire a muoversi prima di chiudere il gas. Dopo un'intensa giornata di allenamenti anche il nostro amico amatore Matteo ha fatto dei progressi non indifferenti, è vero che deve ancora molto ragionare e pensare su quello che deve fare, però piano piano, se non ci focalizziamo sul lap time, sul tempo, piano piano diventerà naturale, diventerà un nostro automatismo e di conseguenza riusciremo a sfruttarlo ed essere più veloci in futuro. Un altro grande vantaggio del trovare la posizione curva ancora prima di togliere il gas è quella di riuscire a gestire molto meglio lo spin negativo, ovvero la sbandata o la derapata in frenata, chiamatela come volete, per tutto l'arco della frenata perché se tu rimani centrale sulla moto, quando lei vuole scivolare, tendenzialmente può farlo sia a destra che a sinistra e quindi è un po' imprevedibile e può essere molto nervosa. Se noi ci portiamo già col peso all'interno della curva, la moto in quel caso lì può solo scivolare verso l'esterno, quindi è molto più prevedibile e sicuramente molto meno nervosa nelle relazioni. Ok ragazzi, spero sia stata una lezione utile. Vi volevo ricordare che da marzo saremo pronti ad affittare anche per voi delle nostre moto, quindi vi aspettiamo in pista ad allenarvi con noi. Non sarà un vero e proprio corso perché io mi allenerò per i fatti miei e magari vi darò qualche consiglio random, però vi potrete divertire e allenare. Cucuuu!